Le video notizie di distribuzione moderna Aggiungere qualcun altro e vedremo cosa ne verrà fuori Perché poi sappiamo anche noi che il salato magari in paesi diversi Magari in Italia c'è un gusto che piace di più Magari in altri paesi abbiamo degli altri gusti Per il momento faremo il gusto pizza, gusto formaggio e rosmarino e pepe Dobbiamo dimenticare l'andamento 2020 perché è stato un anno anomalo Sia per i consumi sia per i modi con cui si lavorava Andiamo a guardare il 2019, stiamo crescendo un po' rispetto al 2019 Nonostante ci sia adesso il peso delle materie prime Dell'energia e di tante altre cose che vanno a influenzare gli utili aziendali Speriamo che questi prodotti abbiano un assestamento E poi vedremo cosa succederà anche perché Dobbiamo anche fare magari nuove investimenti Per prodotti nuovi che abbiamo in mente A parte il discorso del mercato italiano Per il 40% del nostro fatturato Dopo facciamo circa un 30% in Europa E poi l'altro 30% è distribuito nel rimanente del mondo Diciamo che gli Stati Uniti fanno la parte importante Come il Giappone, Corea e Cina Quelli sono i principali Siccome siamo consapevoli che siamo a 940 metri Su in montagna Siamo consapevoli di avere rovinato Tra virgolette un po' L'ambiente montano con uno stabilimento così Sì, però abbiamo cercato di fare tutto quello che è possibile per il momento Come risparmio energetico Per cui recuperiamo calore dai forni Per tutto quello che è il discorso Riscaldamento e climatizzazione dei locali, degli ambienti Abbiamo un fotovoltaico da circa Da oltre un megawatt sul tetto per l'energia Stiamo facendo delle prove Per vedere se ci sono le possibilità Per poter fare dell'eolico Poi vedremo cosa succederà